E' domenica 26 aprile, buongiorno, il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemulise, c'è la cronaca in apertura con la notizia di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Statale 87 nei pressi di Vinchiaturo di questa pizzeria alla Taverna dei Re, il bilancio è di un ferito grave, l'uomo che era alla guida di questo maggiolino, che vedete inquadrato, un 45enne di Sulmona ricoverato in rianimazione al Cardarelli, aveva partecipato ad un raduno di auto d'epoca a Riccia, a bordo c'erano anche due ragazze di 8 e 12 anni, sono state sbalzate fuori, per fortuna le loro condizioni non sono gravi, la signora che avete visto inquadrato di spalle invece era a bordo di una Opel Meriva, alla guida il marito, ha riportato qualche contusione, per fortuna neanche le sue condizioni sono gravi, versa invece in gravi condizioni, come dicevamo, il 45enne di Sulmona alla guida del maggiolino che è ricoverato all'ospedale Cardarelli. L'incidente all'uscita di una curva all'altezza di questa pizzeria, il maggiolino è sbandato, probabilmente oppure un guasto meccanico o un malore del conducente, queste le probabili cause, è andato a impattare frontalmente contro la Opel Meriva che viaggiava in direzione Campobasso. Queste le notizie dell'incidente, ce n'è stato un altro, nella notte tra venerdì e sabato un 23enne di Campobasso è ricoverato in rianimazione, viaggiava con altri 4 amici a bordo di una Mercedes classe A, incontrata Collelongo di Campobasso all'altezza dell'impianto Falcione e nei pressi del Bivio per Oratino l'auto è finita in una scarpata, le condizioni più gravi per il 23enne di Campobasso, figlio tra l'altro di un noto commerciante che è ricoverato in rianimazione. Voltiamo pagina, parliamo adesso di politica con il comitato degli indignati che torna a farsi sentire contro la casta, da domani mobilitazione contro la legge finanziaria regionale. Allora ce ne parla Valentina Nino. Frattura e la Giunta regionale hanno intenzione di ripristinare il vitalizio che Iorio nel 2012 aveva abolito. La legge di stabilità regionale e la legge di bilancio 2015 presentate dalla maggioranza hanno riportato alla ribalta il tanto odiato vitalizio insieme ai tagli e ai servizi essenziali, tasse ai cittadini e privilegi per la casta. A sostenerlo il comitato degli indignati del Molise che prospetta una situazione davvero critica, un vero e proprio colpo di grazia per i molisani. Per questo il comitato degli indignati del Molise ha diramato una nota nella quale invita tutti quelli che si sentono offesi da tanta arroganza a presidiare la sede del consiglio regionale da domani 27 aprile, giorno in cui è previsto l'inizio dell'esame della legge di stabilità e bilancio. Dobbiamo impedire che venga approvata una legge vergognosa, dicono dal comitato degli indignati, perché vogliamo considerarci cittadini e non servi del potere e soprattutto perché lo dobbiamo ai giovani e alle nuove generazioni che invitiamo, concluso, a lottare con noi. Cambiamo argomento, anche la scuola media Andrea Di Sene ha partecipato alla giornata mondiale del libro organizzando una serie di iniziative che hanno coinvolto anche la cittadinanza e il servizio. È stata scelta la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore per chiudere in bellezza il progetto lettura dal titolo Che invenzione la comunicazione. Protagonisti gli alunni della scuola media Andrea Di Sernia al Cinema Lumière attraverso una serie di performance artistiche a una rappresentazione teatrale e alla proiezione di lavori letterari e multimediali hanno affrontato tematiche di grande interesse a partire dall'uso consapevole dei social network ma non solo. C'è stata una condivisione e un'armonizzazione di quella che è l'aspetto comunicativo in sé attraverso l'espressione dei ragazzi in un laboratorio teatrale che abbiamo realizzato e poi dei video che portano alla riflessione, hanno portato alla riflessione sul concetto di comunicazione. Quindi io credo che sia stata didatticamente parlando un'esperienza abbastanza rilevante, importante, finalizzata alla coesione tra quella che è la formazione della personalità e quella che è l'aspetto della comunicazione vera e propria. Questa giornata di festa ha permesso anche di apprezzare i lavori dei ragazzi che hanno partecipato alla scuola di giornalismo. Hanno prodotto non solo articoli ma anche dei video giornali, oggi presentiamo un piccolo video proprio sul tema della comunicazione, dalla comunicazione non verbale, quella gestuale fino ad arrivare alla comunicazione 2.0 e quindi con l'avvento dei social network, insomma i ragazzi si sono dati da fare per un progetto che li vede coinvolti sin da ottobre. Oltre a mettere in mostra le loro capacità, gli alunni hanno promosso anche un'altra iniziativa. In piazza Stazione, nella villa comunale e in piazza Celestino V hanno allestito dei centri di lettura. Un modo originale per ricordare a tutti che anche nell'era di internet dei libri non si può e non si deve fare a meno. Io devo dire che l'esperienza è stata estremamente positiva ma forse grazie anche ad una strategia di carattere didattico. Noi crediamo che il verbo leggere sia un po' come il verbo amare, come il verbo sognare, che non sopporta l'imperativo. Quindi la lettura non può essere imposta ma bisogna sollecitare il gusto e il piacere della lettura. Quindi fondamentalmente la ricerca, la riflessione che deve essere fatta intorno al libro deve scaturire proprio dalla emozione. Dalle pagine del libro dobbiamo andare a recuperare le emozioni, la fantasia, stimolare la creatività. È un po' questo il percorso. Alle mie spalle è già il giornale del Molise.it, la nostra rassegna stampa. Vi abbiamo riferito anche nei nostri Tg degli incidenti stradali. Vediamo le altre notizie. Metropolitana leggera, polemiche feroci sul trenino di frattura. È l'articolo a firma di Anna Maria Di Matteo. Le altre notizie. Appello alla mobilitazione degli indignati contro il ripristino del vitalizio. Primo maggio negozi chiusi. L'appello è dell'assessore alle attività produttive del comune di Campobasso, Salvatore Colagiovani. Isernia Erasmus Plus dall'Unione Europea. Opportunità e finanziamenti per i giovani. Festa della liberazione, ricordo di Jaime Pintor, della tragedia degli immigrati e del lavoro che non c'è. Isernia Sicurezza e Lavoro Nero. 9 imprenditori denunciati dai carabinieri. Carresi del Basso Molise a rischio, sequestri dei carabinieri nelle stalle. Borse e lavori. Il comune di Campobasso approva le graduatorie. Massoneria. La passione dei molisani per i grembiulini. Quanto la sanità funziona. Lettera sul cardarelli da una famiglia di Campobasso. E poi a scorrere le altre notizie. C'è la sezione editoriale idee ed opinioni. Le notizie dalla regione e quelle dall'Italia. In pdf le prime pagine dei quotidiani regionali che troviamo in edicola oggi. Primo piano Molise. Allora andiamo a vedere le notizie. C'è sotto la testata in apertura questa. Rischio le carresi. Blitz denas nelle stalle. Sequestrati animali e carri. Controlli antidoping. Carabinieri a San Martino Ruri e Porto Cannone. Il Museo della Memoria di Senni ha chiuso nel giorno della liberazione. Ed è polemica. Studenti e turisti di stucco davanti al portone sbarrato. Poi c'è la notizia sull'incidente. Schiando sulla statale 87 è gravissimo un 45enne. Ferite lievi per le figlie dell'uomo. Ritornavano da Riccia dove avevano partecipato ad un raduno di auto d'epoca. Al bivio di Oratino, per Oratino, l'altra notizia di cui abbiamo parlato. Invece si ribatta una classe A con cinque ragazzi a bordo, due ricoverati in ospedale. A Boiano, Tari da Capogiro scatta la Clexation contro i rincari. Pronto pure ricorso alla commissione tributaria. L'opposizione dice le aliquete fra le più alte in regione. Per la politica, Tonino Di Pietro, crollati partiti e l'ora dei movimenti, debutta il Molise di tutti, dentro molti ex dell'Italia dei Valori. Le voci di Palazzo, Roma può aspettare. Frattura dice arresto nel PD e continuerò a fare il governatore da Vasto. Il 25 aprile alternativo dei Cinque Stelle, via le trivelle dal nostro mare. Poi ci sono le notizie di sport, serie di lupi, match point, playoff a Celano, Termoli, Dagnone per la salvezza. Eccellenza, Lisernia chiude con la Santeliana, spareggio, ultima chance, Vasto Girardi per il ciclismo. Giro di Turchia a Pollonio, torna in gara dopo la frattura allo Scafoide. Abruzzo, la vastese vuole fare un dispetto all'Avezzano, c'è San Salvo, Torrese. Era primo piano Molise, vediamo anche il quotidiano del Molise. Apertura per il pauroso incidente, 45 anni in coma, aveva partecipato ad un raduno di auto d'epoca. Con lui le due file di 8 e 12 anni. Una Mercedes con 5 ragazzi a bordo finisce nella scarpata. Qui siamo a Campobasso, un 23 anni e l'amica in rianimazione. Per la politica, frattura replica Iorio, rinuncia al vitalizio e dia un segnale ai molisani. Presentato poi il Molise di tutti, Di Pietro dice, amo questa terra e ora ci metto la faccia. Il settantesimo anniversario, omaggio ai caduti nel giorno della liberazione. Settantesimo anniversario del 25 aprile evidentemente. Poi dal Basso Molise, controlli antidoping del NAS sugli animali. Carri sia a rischio, sotto sequestro, buoi, cavalli e carri. Campobasso, primo omaggio con la Giovanna Negozianti, restate chiusi l'appello. Lo sport, lupi a Celano solo per la vittoria. L'Agnone tenta l'impresa col Matelica. Il Termoli riceve il San Nicolò e spera nella salvezza diretta. Poi c'è anche questo titolo sul calcio a 5 di C1. Chaminat ubriaca di gioia ed è serie B. Era dunque il fatto quotidiano. Vediamo anche la gazzetta del Molise che titola così, con riferimento alla presentazione del Molise, di tutti eravamo quattro amici al bar, con riferimento evidentemente alle poche presenze. L'Oscar del giorno ad Overnet, il tapilo del giorno ad Antonio Columbro. Uno sguardo anche a futuro Molise. Il quotidiano online. Carri si presunti maltrattamenti e doping. Fanno scattare i sigilli, stop alle corse. Grave incidente nei pressi di vinchiatura. Due euro coinvolte e quattro feriti, fra cui due gravi a bordo di una vettura. Due bambini di 12 e 8 anni. Consiglio regionale, vedete in alto a destra, lunedì inizia la maratona per l'approvazione del bilancio. E poi da Campobasso, incidente alle prime luci dell'alba del 25 aprile. Auto finisce fuoristrada con cinque ragazzi a bordo. In pronosi riservata un 23enne del capoluogo. Il Molise di tutti, frattura e emozione per l'associazione, sono nel PD e continuerò a fare il governatore. Un 25 aprile, chiuso alla memoria, chiuso il museo, quindi a Isernia, anche qui viene riportata la notizia. E poi le altre notizie, anche con argomenti nazionali. Renzi, se l'Italicum non passa, il governo cade. Poi c'è anche il messaggio del Presidente del Consiglio, Vincenzo Niro, per il 25 aprile. Da Venafro, l'amministrazione comunale tiene più alla palazzina Liberty che agli studenti delle medie senza palestra dall'inizio dell'anno. Due pesi e due misure per gli appalti e la disponibilità economica. Questo l'interrogativo di futuro Molise. Le prime pagine dei quotidiani nazionali. Adesso ovviamente c'è in primo piano il terremoto avvenuto in Nepal sul tetto del mondo. Migliaia in Nepal sotto le macerie. Scossa di magnitudo 7.8. Corsa contro il tempo per estrarre i corpi. Valanga sull'Everest. Muoiono 18 alpinisti stranieri. Distrutto il centro della capitale Katmandu. crolla la torre simbolo patrimonio dell'UNESCO. Insulti poi alla brigata ebraica. Siamo alle altre notizie. Mattarella dice eroi della libertà. 25 aprile. Il capo dello Stato. Democrazia e anche lotta ai corrotti. Questi titoli principali sulla prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo a vedere anche quella di Repubblica. Che dedica il titolo principale alla politica interna. PD sfida di Renzi. Quattro voti di fiducia per l'Italicum. Bersani si ribella. I Dem non hanno padroni. 25 aprile. Intanto a Milano insulti alla brigata ebraica. Poi c'è questa fotonotizia dal Nepal. Il terremoto sul tetto del mondo. Migliaia di morti. Valanche sugli alpinisti. Scossa di manitudo 7.9. Devasta Katmandu. Vittime in India. Qui c'è questa foto riferita al salvataggio di una persona. Andiamo adesso a vedere il Fatto Quotidiano. Che sceglie questa notizia si torna ancora sul caso di Giovanni Loporto. Sulla visita di Renzi negli Stati Uniti. E sulle voci che hanno riguardato proprio il caso Loporto. Che avevano da ridere quei due alla Casa Bianca. L'interrogativo titolo del Fatto Quotidiano. Parla il padre di Giovanni Loporto. Ucciso dal drone degli Stati Uniti. Il giorno del vertice Obama sapeva. Impossibile che non l'abbia detto a Renzi. Le risate sono mancanza di rispetto. Dice il papà di Giovanni Loporto. Intanto terremoto in Nepal. Migliaia di vittime e l'incubo maltempo. Trema l'Himalaya. 25 aprile. Farinetti e Lotti vendono vini e controriforme. Mattarella dice. Democrazia è combattere la corruzione. Andiamo a leggere perché. Il re di Italy promuove il baloro resistenza. Usando la memoria dei partigiani. 5 euro al calice. Il sottosegretario addetto al recupero degli impresentabili. Invece fa lo statista. Questa la denuncia del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere anche il quotidiano dei Vescovi. L'avvenire. Trema il tetto del mondo. Il titolo d'apertura. Il fatto. I morti concentrati nella regione della capitale Katmandu. Dan in Cina, Tibete ed India. Una corsa contro il tempo per gli aiuti. Testimoni dicono. Aperte norme voragini. Si scava a mani nude. Il Nepal è stato colpito da un terremoto devastante. Migliaia le vittime. Tragedie anche per i scalatori. Accoglienza poi. Sfida tra solidarietà e nuove diffidenze. Migranti. Sindaci chiedono aiuto al governo. C'è poi il titolo sul 25 aprile. Mattarella. L'Italia del 25 aprile. Futuro per tutti. Ha detto il presidente. Contestata a Milano. Intanto la brigata ebraica. Erano anche i principali titoli sul quotidiano L'Avvenire. Vediamo adesso i quotidiani di Aria Centrodestra. Il giornale. Liberazione. No. Invasione. Allarme. Sbarchi. Questa la lettura. Gli islamici spalancano le porte di casa nostra. C'è posto per milioni di profughi. A Milano fischia la brigata ebraica. Boldrini dice. Migranti come partigiani. Centropagina. Tassano i capannoni come fossero ville. Intervista al presidente di Confartigianato. Imprese. La previsione della CGA di Mestre. Aumenterà anche la tasi sulle abitazioni. Vediamo anche la prima pagina di Libero. Una bomba sotto il debito pubblico. Perché i conti non tornano. Per farsi belli col calo dello spread. Piazzare botte BTP. Monti e Renzi hanno siglato. Accordi suicidi con le banche. Così ci siamo riempiti di derivati. Che ci fanno perdere decine di miliardi. E il nostro russo. Cresce sempre di più. Questo è l'argomento scelto da Libero oggi per aprire il giornale. Poi c'è la vignetta sulla Boldrine. Sul 25 aprile i profughi sono i nuovi partigiani. Belli ciao. Il 25 aprile trasformato nella festa degli antisemiti e degli antisalvini. I piani dell'unione islamica. L'Italia ha due milioni di immigrati. Intanto si torna su questa vicenda. E poi perché romano e sgradito, l'amico libico di Prodi scappato con 7 miliardi. Vediamo adesso anche il mattino di Napoli. Apertura sul terremoto. Nepal distrutto inferno sull'Everest. Terremoto record di manitudo 8.1. Migliaia di morti. Crolla la torre protetta dall'UNESCO. Centropagina scuola attacco alla riforma. Presentati 2.400 emendamenti nel mirino poteri dei presidi e selezione dei prof. Domani il via la discussione alla Camera. I dirigenti rischio dietro fronti. Il caso poi 25 aprile. Il colle. Liberiamoci dai corrotti. A Milano insulti a Brigata Ebraica e PD. Poi c'è il colloquio del Rio e Sud. Non perderà i fondi europei. Era dunque il mattino. Vediamo anche il tempo di Roma che torna sulla vicenda a Fittopoli. una trappola da 100 milioni. La vicenda, ovviamente, le notizie e l'inchiesta che riguarda la capitale. L'inchiesta del tempo. Si allarga lo scandalo dei canoni non riscossi dalle case comunali. Il Campidoglio ha provato a far pagare ai cittadini la mala gestione del patrimonio immobiliare. E poi Gian Grande, porto la croce ma non perdono, l'intervista due anni dopo la sparatoria a Palazzo Chigi, lo sfogo del maresciallo ferito. Polemiche intanto per la liberazione. I nuovi partigiani festeggiano così ebrei assassini. E poi un terremoto terribile in Nepal. 2000 morti. Parlano gli italiani sopravvissuti al sisma. Dobbiamo ancora vedere anche la prima della stampa. Il terremoto demasta il Nepal. 1500 morti sotto le macere. C'è questa foto. Il volontario a lavoro per rimuovere le macere di un edificio crollato in piazza Durbar a Kathmandu. Due scosse si sbilisciolano al centro della capitale. Vittime anche in India e Cina. E poi c'è l'intervista al segretario generale dell'ONU. Vedete, di spalla Libia sbagliato. In apertura sbagliato colpire barcone aiuti ai profughi. Ban Ki-moon dice asilo a chi fugge dalle guerre. Tutti si impegnino. Kathmandu distrutti i tempi e i palazzi. La città è sempre risorta. Everest tende travolte dalle valanghe. 18 le vittime. Ancora altri articoli sul terremoto in Nepal. Dobbiamo e chiudiamo con la Gazzetta Sportiva. Che dedica il titolo principale alla bella vittoria dell'Inter sulla Roma. Una notte da Inter dopo tante delusioni e un po' di gloria. 2-1 sulla Roma grazie ad Hernanes e Di Cardi. Nel finale Mancini schiera tutti i suoi attaccanti. Vince e rivede l'Europa. García rivede il secondo posto. Diavolo che inferno. Il Milan in ritiro. Inzaghi intendi dopo la sconfitta di Udine. Crollo ad Udine. 2-1 Berlusconi furibonto. Sul Pullman scontro. Pippo squadra. Festa doppia in Casapuzzo. Intanto Woodford in Premier. C'è il derby e la Lazio fra la Juve e lo Scudetto. Oggi contro il Torino. Primo matchball per la capolista. A patto che Pioli perda con il Chievo. Allegri intanto pensa al turnover. Correal potrebbe ritrovare Pogba. Dal mondo. Bayern titolo in tasca. Pelé tra i grandi italiani di Premier. Altrimonti. Terremoto in Lempala. ha almeno 1.500 morti. 18 sull'Everest. Anche la Gazzetta quindi dedica un titolo al terremoto in Nepal. Noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa. Grazie a voi per aver scelto il nostro TG del mattino. Buon proseguimento di domenica. Ci vediamo alle 14 in diretta con il telegiornale. Noi ci fermiamo qui con la rassegnazione. 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 Noi ci fermiamo qui con la rassegnazione.